Ciao amici! Oggi facciamo una cucaccia valente e buonissima! Iniziamo! Facciamo in una ciotola, la farina di semola La farina di semola Chiepito L'acqua chiepita Adesso noi togliamo con un cucchiaino Ora tocca a me, perché dopo c'è da passare con le mani Quindi bisogna... Finito L'olio di oliva E le patate bollite Adesso ci mettiamo il sale e passiamo con le mani Impassiamo! Sento dell'acqua volante Ciao Ciao a tutti! Il salito è passato bene e la mettete dentro una teglia Tutto l'olio E fate il lievito alle due ore Adesso mettiamo in una ciotola i pomorosini tagliati e schiacciati L'olio 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 E il salito E il salito E adesso lo diamo! Ora prendiamo l'impasto che ha lievitato Guardate come ha lievitato! Adesso lo ralliamo un pochino Adesso lo ralliamo un pochino Adesso ci mettiamo questi sopra Passi Ho detto a sapere Sembra una pizza Dopo le tocco Metti tutti i passi, no? Tutti attaccati Metti tutti i passi Metti tutti i passi E adesso ho il forno! E adesso ho il forno! Ed ecco la nostra focaccia marese! Adesso la assaggiamo! Buona! Ora facciamo anche la prassi Buona! Buona le pomodori! Si stacca le pomodori! Eccola! Buonissima La posso dire che mi sta fare? Metti mangiare adesso il piatto volessi già parlare del piatto buona la dovete fare assolutamente perché è bella, soffice e morbida è buonissima ciao con tutte le mani in mente vi saluto ok